Siamo al circuito Marconi, allora vediamo come è stata tagliata l'erba perché si dice che l'erba ricresce, qui non ricresce, l'erba non è stata tagliata è stata tagliata malissimo, praticamente fra poco invade di nuovo la pista d'atletica questi sono dei lavori fatti male, nessuno controlla e fai la pista tutto a lato mare, è tutta così, è inconcepibile che si possano fare dei lavori in questo modo non c'entra quello che ha detto la ragazza, l'assessore, lì che l'erba ricresce, non c'entra questa non è stata tagliata, questa è gialla, è gialla, arriva su alta anche due metri quindi non è stata tagliata, qui è stato chiuso 15 giorni ma chi ha controllato i lavori, a chi spetta spetta al comune, all'asset, è tutto così, ma chi fa i lavori, ma chi li controlla, ma